Quando torna il nonno? Beh, diciamo che se tu fai colazione presto presto e mangi tutto, forse ti farà una sorpresa. Mi sono allontanato per nascondere. Per nascondere il nonno. Per nascondere la mia inquietura. Qui sono nati e vissuti scrittori, musicisti, artisti. E poi il mio scrittore preferito, Hemingway. Hai visto dove vieni a passeggiare il nonno quando esce il bicicletta? Sì. C'è un'altra sorpresa per me. Cioè? Guarda là. Sì. 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 Grazie a tutti.